Di che cosa si è parlato durante il primo programma in diretta, andato in onda su Tef nell'ottobre del 1984? Della figa? Sei molto cafone, molto maleducato, ti devi vergognare perché siamo in diretta, quindi sei veramente una persona vergognosa, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! No, 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 non è così!